tornava all'andata. Fa clamore l'eliminazione del Paris Saint-Germain in Coppa dei Campioni. I parigini che avevano rivinto lo stretto francese dopo 20 anni avevano molte ambizioni ma il 2-2 interno all'andata aveva già compromesso prima di questa sconfitta col Vitovice per 1-0 su calcio di rigore. Ecco l'azione del replay del calcio di rigore, siamo alla metà del secondo tempo, la trasformazione di Chouarec che condanna alla prematura eliminazione i parigini del Paris Saint-Germain. Ecco ancora la ripetizione del rigore fatale alla formazione campione di Francia. E con questa immagine si conclude qui questa edizione ridotta di